Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Matteo Salvini da Ascoli lancia la volata finale ai candidati marchigiani della Lega in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Il leader del Carroccio, dal palco sistemato al Chiostro di San Francesco, ha infiammato i tanti sostenitori presenti, ribadendo quelli che sono i punti fondamentali del suo programma. Sicurezza e difesa del confini nazionali dall'immigrazione clandestina, abolizione della legge Fornero, Flak Tax e soprattutto aiuti alle famiglie e alle imprese costrette a fare i conti in questi ultimi mesi con l'aumento esponenziale delle bollette. Una grave situazione che rischia di ripercuotersi anche sui posti di lavoro. Non vedo l'ora che arrivi questo 25 settembre perché secondo me per la Lega, per il centrodestra, in tutta Italia, ma nelle Marche in particolare, sarà un risultato straordinario. Penso che per la prima volta qua si possa vincere dappertutto, in tutti i collegi, in tutte le province. E' anche un ringraziamento alle buone amministrazioni, sia comunali che regionali, della Lega del centrodestra. Qua c'è gente che non si è mai fermata. Noi abbiamo come Lega candidato anche una donna come Giorgia Latini, un uomo come Mirko Carloni che per la regione, per i marchigiani, hanno fatto cose pazzesche in questi anni, nonostante il Covid, nonostante la crisi, le difficoltà. E quindi penso che raccoglieremo molto bene perché abbiamo seminato molto bene. La priorità sono le bollette. E qua io lo dico nelle Marche, in Veneto e in Sicilia, è inspiegabile come altri partiti, altri segretari di partiti, non capiscano l'urgenza, l'emergenza, il disastro alle porte. Se non si bloccano le bollette di luce e gas, se non si bloccano i costi di energia, qua rischia di essere una strage di posti di lavoro. E quindi come Lega continuiamo a insistere perché la politica su questo si unisca. Il segretario della Lega ha poi ribadito l'importanza di avere rappresentanti del territorio in Parlamento affinché possano essere affrontate le problematiche che da anni affliggono il Piceno, tra i quali la gestione del post-sisma e la criticità delle infrastrutture. Ho sentito i problemi autostradali che mi sembrano evidenti e ferroviari che mi sembrano assolutamente altrettanto evidenti. I problemi anche della ricostruzione, perché ne parlavo adesso dietro il palco con alcuni sindaci, la chiusura di alcune scuole o di alcuni uffici postali o di alcuni negozi che in un comune normale possono essere sopportate in comuni che si stanno rialzando dopo un disastro, no. E quindi chiudere un liceo perché non ha abbastanza studenti o chiudere un ufficio postale perché non ha abbastanza utenti in territori massacrati dal terremoto che si stanno rialzando è qualcosa di assolutamente impensabile.